Materassi ammassati, un frigorifero, condizioni igieniche al limite, dormivano e vivevano abusivamente in un centro estretico abbandonato, quattro stranieri scoperti dalla polizia locale di 90 a Padovana. L'immobile, acquistato qualche tempo fa da un 28enne nigeriano, è stato sgomberato dopo alcune segnalazioni. L'insediamento abusivo è stato individuato dalla polizia locale durante un sopralluogo con l'ufficio tecnico comunale, il sindaco Marcello Bano e il vice sindaco e assessore alla sicurezza Nicola Cannistracci. Quando sono arrivati, una persona è stata sorpresa mentre dormiva all'interno dei locali. L'occupazione dell'ex centro estetico era stata segnalata da alcuni residenti del quartiere di Oltrebrenta che avevano notato un continuo via vai di cittadini nigeriani all'interno dell'ex negozio di via Pasubio anche nelle ore notturne.